Pronto? Pronto Morlacchi, sta guidando? Sentasi fermi, perché le devo dare una gran buona notizia. Allo caso, se fosse cattiva mi fermerei, ma se è buona non c'è problema, dica pure. Dunque, ho raggiunto con gli esici Burigana un accordo che ci impedirebbe quindi di trascinarci per tribunali per anni con esiti non sempre positivi. Io in coscienza le consiglio di accettare, si tratterebbe di dividere la vincita in tre parti uguali, per cui a ognuno di voi toccherebbero un attimino che glielo dico, un miliardo, 666 milioni, 666 mila lire. Morlacchi, è lì? Mi sente? Pronto? No, 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 niente, niente, tutto bene. Sì, quanto mi viene? Me lo ridica per favore. Un miliardo, 666 milioni, 666 mila lire. E beh, mi sembra un ottimo accomodamento. Naturalmente, dalla quota di ognuno dei tre si tratta di dedurre il mio 20% e le quote che avete ceduto per le varie testimonianze e accomodamenti concordati. Bene, benissimo, benissimo. Va bene, la ringrazio, grazie, eh. Grazie mille, arrivederci. Ok. Grazie mille, grazie mille, grazie mille.